e il risorto illumina la vita dei tuoi figli. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Aggiungi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci la tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel Vincidio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Padre che accanto al tuo Figlio inaltato sulla croce hai voluto presente la sua madre adorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ecco. Un attimo, ringraziamo il Signore per questa bella sera, per il momento che ci ha fatto vivere, grazie a tutti voi, a ciascuno di voi, per quanto è davanti per questa partecipazione, e che il Signore possa ricambiare questo nostro affetto, con un tanto amore ancora più grande. Vi faccio sentire nel cuore di amore in questo Pasqua tanta pace e tanta gioia da difendere al mondo intero. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie.